buongiorno a tutti allora dobbiamo parlare di tre cose la prima è il playoff di serie B che c'era il mio amico Kudispa che è andato giù a Palermo a vederla il nostro centravanti della nazionale youtuber era giù a vedere la partita senza voce eccetera comunque l'incontro ha visto la vittoria di misura del Palermo in rimonta sul Frosinone per due reti a una perché praticamente dopo cinque minuti Ciano era lì che più o meno sui 25 30 metri si è guardato in giro ha tirato una mina tremenda all'incrocio dei pali col portiere che veramente un tiro se ci riprova altre dieci volte non ce la fa invece a giro proprio all'incrocio secco quindi doccia fredda subito per il Palermo che ci ha messo un po' a riprendersi il Frosinone ha fatto la sua partita in un'azione negli ultimi minuti Dionisi ha avuto una palla buona per tirare comunque in porta se è impappinato se è scapottato vabbè azione successiva Lagumina ha pareggiato azione del Palermo a passaggio Lagumina ha controllato al limite dell'aria tiro nell'angolino 1 a 1 nella ripresa sembrava che oramai la partita stesse per finire su un 1 a 1 perché sì qualche azione da una parte qualche azione dall'altra ma niente di eclatante quando da un cross basso Terranova per anticipare il difensore o magari gli è rimbalzata contro perché non è che si è capito bene comunque l'ha toccata col ginocchio e ha fatto autorete e ha regalato al Palermo la vittoria quindi Palermo ha vinto 2 a 1 adesso il Frosinone a ritorno è obbligato a vincere con qualsiasi risultato perché leggevo che a parità di punteggio di punteggio di golo o di punteggio vince passerebbe il Frosinone perché ha la differenza reti alla differenza reti buonanotte ha finito di pochi punti davanti al Palermo quindi Frosinone è arrivato terzo il Palermo quarto però deve vincere Palermo gli va bene due risultati sul tre quindi basta che non perda che vinca o che pareggi quindi il Palermo passerebbe e questa è già una cosa positiva però attenzione perché il Frosinone in casa l'è una brutta bestia quindi nulla è compromesso partita ancora apertissima tutta da vedere da giocare sabato sapremo quale delle due sarà la terza che si aggiungerà dei Poli e Parma in Serie A io credo che il caro simpaticissimo Lottito farà il tifo per il Palermo io francamente per la simpatia però che ho per il club del nostro attaccante Davide farò il tifo per il Palermo ma francamente non mi sono né antipatiche né simpatiche né una nell'altra diciamo che mi sono due squadre che mi sono indifferenti quindi win the best come si suol dire veniamo alla seconda notizia perché lascio per ultima la quella più succosa quella di cui abbiamo parlato della giornata di ieri perché il video lo vedrete il 14 l'altra notizia bella e importante è la coppa del mondo del 2026 è stata assegnata USA Canada e Messico quindi è stata abbattuta la candidatura del Marocco però stiamo tranquilli perché saranno 80 le partite del mondiale del 2026 e il praticamente 60 su 80 si disputeranno si giocheranno negli Stati Uniti 10 in Canada 10 in Messico quindi in base a dove sono ubicate le squadre cercheranno di non fargli fare voli pindarici è vero che nel 2026 magari c'è anche il teletrasporto praticamente fanno squadra X andateci su nell'altra sede vedremo vedremo ci sarà veramente da da ridere però comunque almeno sono degli States posto tranquillo c'è il fusolario come al solito però mi auguro che non facciano fare le partite a mezzogiorno come è successo già nel 94 che le squadre a momenti morivano però intanto è stata scelta Stati Uniti Canada e Messico che francamente con tutto il rispetto sono molto meglio del Marocco e veniamo adesso alla vera libidine la notizia di cui si è parlato per tutta la giornata del 13 di giugno e cioè l'esonero di Julian Lopotegui che non è più l'allenatore della Spagna tutto perché il Real Madrid ha detto signori dall'anno prossimo ci allenerà l'allenatore di Julian Lopotegui e l'hanno esonerato l'hanno esonerato al suo posto è arrivato Fernando Ierro che pare che per ora allenerà solo per i mondiali poi si vedrà decideranno se prolungargli anche l'ingaggio per i prossimi europei o meno e veniamo alle dichiarazioni perché allora Ierro ha detto dobbiamo usare intelligenza e coerenza siamo venuti qui a lottare per un titolo irridato poi sempre Ierro visto che parliamo di lui ha detto non cambio nulla prima si pensa al Portogallo e poi alle partite successive noi non pensiamo ad altro veniamo alle dichiarazioni sia del povero Lopotegui che è stato esonerato che ha detto sono molto triste beh è normale uno che si appresta a fare il mondiale dall'oggi al domani gli dicono no non allendi più la Spagna visto che tu brutto cattivone sei voluto andare a firmare per il Real Madrid potevi aspettare eccetera comunque lui ha detto sono molto triste gli hanno chiesto secondo lei la Spagna può diventare campione gli ha detto abbiamo una squadra magnifica e cercheremo di vincere è bello quel cercheremo di vincere nonostante l'abbiano esonerato veniamo al presidente della federazione spagnola Rubiales che ha detto momento difficile siamo stati obbligati a prendere questa decisione poi ha aggiunto i valori prima di tutto cambieremo lo staff il meno possibile ecco adesso veniamo a quello che penso io di questa cosa francamente io non so che cosa ci sono di movimenti interni perché qualcuno mi ha detto ma sai bisogna vedere perché all'interno della Spagna c'è sempre rivalità tra Real Madrid e Barcellona boh io francamente non l'ho capita perché è vero lui allenerà il Real Madrid dopo fategli fare il mondiale poi non è che allena il Real Madrid durante ha paura che magari è lì a telefonare tutti i giorni al Real Madrid per fare mercato quindi non ho capito perché cambiare un allenatore alla vigilia di un mondiale a due giorni tre giorni dovrebbero iniziare sabato quattro giorni boh io non vorrei che poi la squadra ne risentisse in più giocano la prima partita delicatissima col Portogallo che sulla carta vale il primo posto e sapete benissimo che nei gironi arrivare primi o secondi può essere molto importante per decidere il proprio cammino poi dagli ottavi in poi e magari avere degli ottavi morbidi dei quarti morbidi e poi vabbè la semifinale una forte e la Berchi ricordiamoci per esempio l'Italia quando nel 2006 vinse il campionato del mondo dopo aver vinto il suo girone ebbe l'Australia negli ottavi l'Ucraina nei quarti signori c'è la via spianata nell'82 invece arrivando salvandosi per il rotto della cuffia con tre pareggi si beccò Brasile-Argentina poi dimostra di essere fortissimo comunque fortunata quello che volete però beccò Brasile-Argentina non lo so io francamente l'avrei lasciato lì e poi dopo arrivederci e grazie è stato bello se no gli dicevi hai fatto male colpa perché pensavi a però in campo ci vanno i giocatori non ci va l'allenatore quindi vedremo cosa combinerà la Spagna io ripeto non è una squadra che tifferò insieme alla Francia insieme all'Argentina perché così imparano a non portare né il nostro Riccardi né nemmeno Martínez ha portato gli altri per poi lasciarli in tribuna quindi vabbè cambia poco e poi comunque basta sempre il pallone d'oro Messi e Cristiano Ronaldo Messi e Cristiano Ronaldo vediamo di farlo vincere a qualcun altro che non se ne può più ok queste erano le tre notizie goduriose di giornata vi saluto vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video di cui parleremo invece di mercato che andrò a fare subito dopo questo video ma ahimè vi vedrete tutti nella giornata del 14 ciao